Una rassegna letteraria ha dato il via alla stagione di eventi per l'estate 2021 nelle grotte di Castellana. Riprendiamoci la Bastiglia, libri e diritti civili nelle grotte, il titolo della tre giorni tematica organizzata simbolicamente, in concomitanza con la ricorrenza della presa della Bastiglia, evento emblematico della rivoluzione francese, che punterà l'attenzione su importanti temi di attualità. Il primo incontro si è tenuto lunedì 12 luglio, accendendo le luci sul tema donne e diritti violati, con la presentazione del libro Le cose giuste di Silvia Ferreri, scrittrice e giornalista Rai. Il libro della finalista del premio Strega, con il suo precedente lavoro, La madre di Eva, racconta cinque storie di donne che la vita ha voluto sfidare e che hanno scelto di ricominciare e di riappropriarsi dei propri diritti. Nelle serate successive spazio Leonardo Palmisano, imprenditore, scrittore e autore di diverse inchieste, nonché esperto di lavoro, migrazioni e criminalità organizzata, che presenterà a Ascia Nera la brutale intelligenza della mafia nigeriana. Chiusura con Marco Bechis, regista e scrittore, che nel libro La solitudine del sovversivo parla della sua esperienza da desaparecido nel 1977. Sopravvissuto alla dittatura argentina, nei suoi taccuini e nei suoi ricordi, Bechis ha custodito una mola impressionante di dati perché li servissero, in un giorno indefinito, ad avere giustizia. In questo momento storico di grande difficoltà in generale per l'intera umanità, anche dovuta alla pandemia, mettere al centro i diritti ci sembra anche un dovere da parte delle grotte di Castellano. Lo facciamo in un luogo intimo come la Caverna della Fonte, lo facciamo nella profondità della nostra terra, della nostra Puglia, perché merita una riflessione profonda la questione dei diritti civili. Lo facciamo perché non possiamo sottrarci a un ragionamento e ad un approfondimento appunto su questioni importanti che riguardano ogni singola persona.